Nel 200esimo anno della morte di Heinrich von Kleist, il teatro Giovanni da Udine si prepara ad omaggiare il grande scrittore con una messa in scena della sua opera Il Principe di Homburg, per la regia di Cesare Lievi. Abbiamo deciso di iniziare la stagione con Il Principe di Homburg perché è un testo meraviglioso che da tempo volevo mettere in scena. Inoltre quest'anno sono 200 anni della morte di Kleist, un grandissimo autore molto festeggiato tra l'altro quest'anno nei teatri di lingua tedesca e io ho già fatto due Kleist, uno in lingua tedesca è la Caterinetta di Albron che è stata poi ripresa anche qui in italiano e l'altro è la Brocca rotta che ho fatto in italiano anni fa. Mi mancava il testo più importante di Kleist che è Il Principe di Homburg. Il sogno in Kleist è trattato come elemento importante, come forza vitale che non va assolutamente fatta tacere e non importa, anzi il sogno deve scontrarsi con il suo opposto che è la regola, la legge, la norma, le convenzioni. È necessario il sogno ma è necessario anche la legge, non solo ma è necessario anche lo scontro tra i due ed è importante che i due non si ignorino a vicenda, che il sogno, il desiderio trovi il suo limite nella legge ma è anche importante che la legge venga minata continuamente dal sogno. Solamente in questa dinamica, in questa dialettica si ha realtà e vita. A mio avviso in questo testo ci sono cose che ci riguardano molto, molto da vicino, come dicevo, anzi sembrano parlare proprio d'ora della nostra società. Quindi un motivo potrebbe essere questo e questo è un po' il motivo, il light motif del teatro che faccio e del teatro che programmo, cioè cercare di parlare il più possibile della realtà. Io, come regista, non posso imporre completamente il mio mondo, il mio linguaggio a quello dell'artista. Io devo, di chi è per esempio in questo caso ha scritto il testo, Kleist, io mi devo mettere in ascolto e poi dall'ascolto fa rinascere la mia visione delle cose, ma prima devo pormi profondamente in ascolto e capire cosa l'opera vuole dire. Io penso che il testo di Kleist, tutto il testo di Kleist sia un sogno e anche il mio teatro è un sogno, ma da sempre, è forse il mio modo di accostarmi al mio lavoro, ma anche alla realtà. Il teatro è un sogno reale. Cosa significa un sogno reale? Significa che è una realtà che ha la potenza del sogno. Che potenza ha il sogno? Il sogno ha la potenza di farci desiderare, di aprirci degli spazi, di creare delle prospettive, di creare anche un futuro. Alla luce di ciò, che cosa in comune l'uomo moderno con il principe? Per avere la risposta l'appuntamento il giorno 12 ottobre presso il teatro Giovanni Daudine. Ciao! 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 Ciao!